Allora, Filippo Deliso, compositore e docente del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, ricercatore scientifico che coniuga varie discipline, stasera ci proporrà un concerto esperenziale. Ci puoi parlare di questo concerto di questa sera e dei due interventi che ci saranno all'interno del concerto? Diciamo che questo concerto è una coniugazione tra la letteratura e la musica. La letteratura liquida intesa come, diciamo, quegli scrittori che hanno usato una dinamica di celebrazione dell'acqua e di utilizzo anche della stessa come manifestazione di una simbolica, ad esempio. Vediamo anche che a livello strutturale questa situazione porta anche molte componenti di natura ritmica, quindi musicale, per cui io ho pensato di coniugare una musica liquida per esemplificare quella che è anche la storiografia della musica, partendo da Mendelssohn, dei Bussi, che con le loro strutture erano già dei musicisti che utilizzavano questa liquidità all'interno del loro suono e delle loro strutture musicali. Adesso con la musica elettronica diventa molto più semplice liquefare i tempi, liquefare i ritmi e quindi anche quelle sensazioni, quelle suggestioni che fanno in modo che la parola venga veicolata. La meditazione, ad esempio, che leggerà la dottoressa Piras, verte proprio sull'ultimo disco, 2012, Oltre i confini, e quindi anche lì è stata affettuata una ricerca sulle varie frequenze fornitemi dalla dottoressa per quanto riguarda le campane tibetane, e quindi anche utilizzare dei reticoli sonori da me coniati per questa esperienza. Dell'altro lato, invece, Vera Tummillo leggerà degli stralci di Henry De Luca, di Francesco Biamonti, di Maria Pia Romano, insomma, scrittori che oggi hanno avuto e hanno tuttora una posizione di rilievo nel campo della letteratura, dal punto di vista dell'usare l'acqua e il mare come elementi portanti della loro parola. Quindi questa sera avremmo il piacere di fare questa stupenda esperienza, anche dal punto di vista emozionale. Certo, soprattutto emozionale e quindi soprattutto empatico, perché la forza di un compositore è coniugare appunto quelle sinergie interiori che possono dare origine ad un'introspezione per quanto riguarda la riflessione profonda che la musica offre e anche la letteratura, ma anche una estroversione di possibilità di gioire della stessa e quindi anche di mettersi in una componente di positività, perché l'acqua di per sé è catartica, diciamo, no? E quindi anche la musica in questo senso. Grazie, grazie.